buonasera amici cripto investitori ben ritrovati a tutti quanti non temete non ero scappato via ci sono dress code red oggi come dicevo poco fa nella chat perché di fatto il rosso è il colore del giorno e stendi e stendi e stendi e stendi prima o poi un po di batosta arriva però c'è però ovvero come al solito non bisogna farsi prendere dal panico perché non è finito il mondo non è ancora successo praticamente niente tra poco andremo ad analizzare per bene come si deve il grafico di bitcoin e andremo a vedere quali sono i livelli che devono tenere come potrebbe evolversi svilupparsi ogni possibile scenario di ritracciamento più o meno profondo o addirittura nemmeno di ritracciamento potrebbe essere semplicemente un flash crash lo sapete come funziona bitcoin ogni tanto li fa le fa queste svendite impulsive e localizzate certo quella di oggi è abbastanza marcata perché se guardate i volumi se guardate l'entità sui diversi time frame vediamo che comunque c'è continuazione se anche andiamo sui time frame intraday vediamo come vedete non è che è una singola candela che ha tutto il volume concentrato abbiamo avuto un po di ascesa dei volumi progressiva insieme al calo stesso quindi ripeto non è il classico flash dump che poi si assorbe e finisce lì in questo caso è un po più partecipato però ve lo ripeto non è il caso ancora di fasciarsi la testa perché al momento già vedete e soprattutto se mi seguite su telegram già sapete quali sono i livelli principali che devono tenere e al momento non ne abbiamo perso nemmeno uno quindi io vi anticipo già che non è ancora il caso di urlare al panico di vendere tutto di coprire con degli short e cose di questo tipo però ovviamente bisogna essere pronti all'eventualità e quindi oggi analizziamo tutte le possibili situazioni che si possono creare con condizioni per le quali uno scenario all'altro si verifica e ovviamente un piano per affrontarlo nel frattempo se mi state guardando sul tubo parlo con i posteri lasciatemi un like che mi gasate adesso ho preso questa abitudine di andare avanti nel tempo e parlare con chi mi guarderà indifferita perché questa è una live vi ricordo e se vi sembra troppo lungo il video e vi spaventa se aprite espandete la descrizione ma anche nella timeline del video lo dovreste vedere ci sono i minutaggi con gli argomenti così potete saltare direttamente all'argomento di vostro interesse senza spararvi tutta l'ora di live questa schermata vi mostra quante posizioni sono state fulminate nelle ultime 24 ore 4 miliardi incredibile ma d'altronde cosa ci dovevamo aspettare cioè c'era un'estensione pazzesca erano tutti tutto il mondo era long praticamente chi con leve altissime chi con posizioni ingenti chi magari con stop stretti una cosa e l'altra risultato che un sell off che magari in altre condizioni non avrebbe causato uno scossone del genere ecco in queste condizioni invece lo causa e come va a liquidare 4 miliardi vuol dire un market sell una vendita mercato equivalente a 4 miliardi bam così e quello che succede poi è questa shadow questo flash dump solitamente quando ci sono queste liquidazioni così marcate il il dump si tende ad assorbire in maniera abbastanza rapida e poi è importante come dicevamo poco fa valutare il follow up quindi l'evento impulsivo in sé non lo dobbiamo considerare o meglio è un'occasione di buy the dip ne parlavamo anche le scorse volte sapete una volta evidenziati i livelli chiave quando si verificano questi flash crash fino a prova contraria ovvero finché non si inverte di fatto la struttura e poi vedremo cosa vuol dire ci sono delle occasioni possibili di mosse speculative molto rapide per chi vuole provare questa lebrezza di questo rischio tuttavia ripeto non è tanto il movimento in sé il sell off repentino che ci deve spaventare ma come poi lo scenario si evolve nei giorni a seguire ok quindi niente questo giusto per farvi capire un po com'è la situazione poi notizia del giorno super protagonista del giorno direi che è crypto.com con il suo la sua super sorpresa del burn dei cro da una parte non era una sorpresa il lancio della mainnet perché chi di voi segue crypto.com ma anche chi mi segue su telegram un po di giorni fa ve l'avevo detto che in concomitanza con tra l'altro un inizio di breakout perché se andiamo a vedere il grafico di cro lo vediamo proprio si vede in particolare sul settimanale avevamo evidenziato come c'era questo costrutto di bottom tac che era stato rotto avevamo chiuso qua sopra e tra l'altro in concomitanza col breakout non so se era un caso oppure no stavano iniziando a uscire notizie riguardanti il termine dei test crossfire si chiamava la fase di test sulla crypto.com chain che di fatto andrà live il 15 di marzo è stato annunciato oggi fino a pochi giorni fa non si sapeva però si sapeva di fatto che prima o dopo sarebbe stata annunciata cioè che a breve sarebbe stata annunciata la data della mainnet questa sorpresa cioè la sorpresa in realtà è stata il burn di 70 miliardi di cro che è una notizia di proporzioni abbastanza importanti perché se ci pensate questo va a ridurre in maniera drasticissima la supply dei cro pensate che al momento la circulating supply di cro prima del burn era del 24 per cento dopo il burn passa all'ottanta cioè pensate che sbalzo che differenza in questo caso è comprensibile il pump lasciatemelo dire perché di fatto si porta via la stragrande maggioranza dell'offerta è notevole questa cosa e poi è così out of the blue come si suol dire veramente inaspettata che è saltata fuori dal nulla io non so se qualcuno di voi aveva già letto qualche informazione su eventuali burn di cro io non ne avevo lette non ne avevo viste e li seguo anche abbastanza poi ultima cosa per chiudere questo questo insomma questo capitolo questa notizia i restanti cro che rimarranno dopo il burn nella circulating supply non ancora distribuita saranno allocati ai validator e delegator della crypto.com chain che funzionerà appunto con dei nodi validatori dei del cioè è una sorta di delegated proof of stake che poi magari approfondiremo in un video dedicato in ogni caso la crypto.com chain è molto ipata perché se seguo un po le orme ad esempio della minus chain con le applicazioni defi con le fee molto basse e insomma cose di questo tipo sicuramente potrebbe attirare molto l'attenzione e il token cro diventerà sicuramente parte integrante di questa blockchain quando si avranno maggiori informazioni sul come funzionerà e che applicazioni ci saranno ovviamente sarò il primo a condividervele più che volentieri speriamo appunto che ci sia altra competizione anche per la baina smart chain che altrimenti si mangia completamente tutto il mercato allora io vi leggo l'ultima giusto l'ultima pillola di notizia poi arrivo da voi con le domande quindi mi raccomando iniziate a tartassare di domande siate belli carichi l'eip 1559 questo famigerato ethereum improvement proposal che cos'è allora se mi seguite su telegram l'ho già detto un paio di volte ma comunque lo ripeto perché è un aggiornamento chiave per ethereum per ridurre le fee ed è un aggiornamento che secondo gli ultimi rumor potrebbe andare live già a luglio questo luglio l'eip 1559 detto in maniera riassuntiva fa soprattutto due cose la prima riduce le fee perché ottimizza il la gestione cioè la spesa delle fee nel senso adesso c'è il metodo ad asta no nel senso chi paga più fee va avanti per primo e tutte le fee vanno ai miner questo è il funzionamento attuale di ethereum con l'eip 1559 ci sarà un livello base delle fee che sostanzialmente sarà uguale per tutti in base alla congestione del network e poi ci sarà una sorta di premium che andrà ai che sarà speso in più tutto l'eccesso sarà ridato indietro quindi non ci sarà una spesa di tutto quello che si include nella transazione come gas come adesso che se la blockchain satura si arriva dei prezzi esorbitanti perché è una gara che offre di più no in questo caso uno dice sì questo è il massimo che posso spendere ma non lo spenderò tutto perché in parte mi torna indietro molto importante come cosa e inoltre il anziché andare tutto ai miner in buona parte viene distrutto cioè vengono distrutti gli ether pagati come gas fee e questo va a ridurre la supply e quindi va un po' a abbassare quella continua diluizione sul mercato di ethereum che è una delle cose che piace meno secondo me come riserva di valore perché cioè che fa vedere meno ethereum come riserva di valore perché di fatto sapete la supply infinita un sacco di ether che vengono erogati ogni blocco e quindi questo crea molta offerta questo eip 1559 oltre ad abbassare le fee andrà a distruggere progressivamente un po' di ether andando equilibrare un po' di più la diluizione del mercato attenzione perché secondo me è una cosa da seguire con molta molta attenzione per l'appunto perché è un evento importantissimo per ethereum se ne discuterà il 26 prossimo che non so che giorno è però è nei prossimi giorni in una community call di ethereum e in sostanza molti lo danno già per preso poi saranno i miner a dover decidere qualcuno dice ma i miner non accetteranno mai perché guadagnano meno ma in realtà c'è dietro tutta un'economia che poi dovrebbe spingerli ad accettare perché di fatto rende ethereum più valuable più di valore proprio grazie anche alla distruzione progressiva non voglio perdermi troppo in queste come dire conversazioni un po' tecniche però sappiate che questo evento potrebbe essere un game changer per ethereum per la defi e riaprire le porte per l'appunto anche ai più piccoli su ethereum perché non ci sarebbero più quelle spese enormi poi un'altra cosa io vi ho condiviso adesso non so se avete già visto il link su telegram altrimenti andateci a dare un occhio vi ho condiviso le slide che ho presentato sabato al crypto trading day l'evento che ho fatto con gli altri colleghi amici che spero abbiate seguito se volete scaricare le mie slide le ho messe a disposizione in maniera gratuita dal con un link a drive lo trovate sul mio telegram bene detto questo dunque non terrei in come sfondo il grafico di cro perché è troppo bullish per i miei gusti teniamo bitcoin e rimaniamo sulla terra anche perché dobbiamo vedere innanzitutto come approccia questo primo livello che è un po l'inizio no di cioè il primo supporto se lo perdiamo è l'inizio di un eventuale reversal va beh lo vediamo dopo adesso parola a voi via con le domande e cominciate subito belli carichi a spingere allora ciao luca oggi abbiamo fatto la spesa attenzione anche a fare la spesa in questi termini perché se poi si rivela un inizio di correzione questa spesa inizia a diventare pesante i sacchetti iniziano a diventare pesanti con il pump di crow oggi ho ancora il portafoglio in green esatto guarda oggi sono contenti sicuramente quelli che hanno le carte più con con più cro vincolati eccoci buonasera bel lunedì oggi old e si bel lunedì oserei dire lunedì rosso e si ritorna poveri e via alla grande ciao luca pensi che potrebbe tornare a 30k allora adesso 30k ancora un po lontano perché stiamo parlando veramente di un livello di prezzo che se potrebbe essere raggiunto non si sa perché a fare previsioni lo sapete non è possibile però io mi guarderei più vicino cioè inutile adesso pensare a dove potrebbe arrivare il ritracciamento perché non sappiamo neanche se ci sarà un ritracciamento ve l'ho detto se adesso per ipotesi stasera parto un'altra botta di domanda la candela giornaliera ci chiude sopra il 56.000 che è l'apertura di ieri allora è ancora più bullish questa cosa e quindi probabilmente si riparte verso l'alto è inutile non appena c'è il movimento ribassista c'è un primo innesco ribassista farsi già delle proiezioni future della peggio specie o della migliore specie perché dobbiamo vedere come chiude la candela come inizia la giornata di domani una cosina alla volta non non vogliamo correre guardiamo il mercato per quello che ci dice che giornata da cardiopalma e sì e sì ciao luca buonasera gran botto di ether e bitcoin oggi tra l'altro non so se avete visto ma ether su guardate ether dollaro su kraken ha avuto un flash crash nel vero senso della parola guardate la shadow dove arriva scusate volevo trascinarlo tac c'è 700 dollari è arrivato proprio qui cioè veramente a questo vi fa capire la catena di liquidazioni che c'è stata pazzesco incredibile e soprattutto i fortunelli che avevano qualche limit buy piazzato qua sotto chissà se c'era qualcuno se qualcuno di voi è tra questi fortunelli si faccia avanti che si guadagna anche un po di shit coin si merita un po di shit coin gasati ai massimi assolutamente questo sempre a prescindere dal verde o dal rosso ciao luca cosa ne pensi del dump di oggi fine del rialzo o buy opportunity guarda né una cosa né l'altra perché ti dico la verità è un po presto per dirlo in entrambi i casi buy opportunity io cioè sicuramente sì per chi vuole fare delle mosse aggressive no come come diciamo sempre ci sono diversi tipi di approccio gli approcci cauti e gli approcci aggressivi in una fase di bull market ci siamo ancora dentro fino a prova contraria io dico e la prova contraria è l'inversione di struttura che ad ora non c'è fino a prova contraria c'è la legge del buy the dip quindi in queste fasi di fomo tutti i livelli chiave sono sempre buoni per eventuali buy the dip questo è il metodo più aggressivo che esista questo ovviamente ci espone al rischio di andare in perdita se poi il mercato effettivamente inverte motivo per cui lo stop loss è abbastanza fondamentale in ogni caso la posizione la situazione invece cauta al contrario bisogna aspettare di vedere come si delinea la struttura cioè se adesso lateralizziamo se adesso facciamo un minimo più basso se adesso perdiamo i supporti e cose del genere e agire poi di conseguenza basta tutto lì per il momento non c'è altro da fare secondo me ciao sei un grande ti seguo da relativamente poco ma assiduamente e a me fa solo piacere lo sai ciao luca gasatissimi hai avuto modo di trovare altre piattaforme c'è fai oltre alle solite grazie mille allora io non so se ve la cioè se l'avevate già captata avevo parlato bene di ledn anche tra cioè oltre le solite per me sono blog fai nexo celsius e cripto.com queste solite 4 e adesso ho aggiunto cioè adesso in realtà già da un po' ho iniziato a valutare io personalmente non la sto ancora usando ma la reputo ottima ledn alla pari delle altre perché c'è dietro genesis capital che è un grosso fondo che in sostanza fa lending a istituzionali ha un'operatività molto trasparente fa vedere i balance sheet in maniera costante trimestralmente mostra il volume di prestiti il numero di clienti insomma è lavora seriamente quindi io tendo a fidarmi si chiama ledn la piattaforma ed è canadese poi 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 ciao luca una domanda cosa ne pensi dello stock to flow model grazie grande allora guardi io ti dico la verità non sono un grande fan dello stock to flow il motivo non è che voglio fare l'orso della situazione il bear della situazione ma il motivo è che secondo me lo stock to flow è esageratamente semplicistico ovvero lui dà per scontato che ci sarà sempre domanda e lui si basa soltanto sull'offerta per valutare un'eventuale stima del prezzo di bitcoin questo approccio lasciatemelo dire cioè è bello finché funziona sul passato ha sempre funzionato non lo posso negare e magari continuerà anche a funzionare però ripeto un modello che secondo me è buono per studiare il passato a fini accademici didattici però non ha alcun potere predittivo questa è la mia opinione sullo stock to flow perché ripeto se la domanda per un certo motivo dovesse aumentare esponenzialmente allora saliremo ancora di più di prezzo se dovesse iniziare a calare per altri motivi che al momento magari è difficile prevedere allora ripeto può essere il più scarso che esista l'asse più scarso che esista bitcoin ma se la domanda non lo sostiene il prezzo non sale e lo stock to flow va a peccare proprio lì a mio parere che giornata di criptofollia avresti voglia di spiegarmi e darmi due dritte sulla funzione earn di binance guarda io ti direi di andare a dare un'occhiatina al video che ho fatto riguardo le rendite passive su binance ho spiegato un po tutti i metodi di rendita attraverso binance che di fatto poi altro non è che binance earn se ne parliamo adesso stiamo qui fino a domani anche perché è un cos'è 25 minuti di video quello là ciao luca veramente tanti complimenti per il tuo lavoro ho una domanda sulla fiscalità tanto noiosa quanto importante nel quadro rv bisogna inserire il valore inizialmente investito in euro e il controvalore in euro delle cripto al 31 12 2020 sia il periodo di imposta al 31 12 ovviamente ogni cripto aveva il suo valore diverso da quello di oggi che strumenti tecniche tool usi per recuperare registrare certi dati in modo da avere il controvalore esatto in euro al 31 12 guarda ci sono dei database che contengono i dati storici anche banalmente quelli degli exchange oppure su trading view su coin market cap se non erro è possibile andare a recuperare i prezzi esatti a un certo a una certa data io il consiglio che do è di tirarseli giù il giorno stesso che così poi li si tiene lì a fine anno fare un po di contabilità male non fa ma anche non a fine anno anche per scopo personale secondo me fare un po di contabilità mensile trimestrale una sorta di bilancio male non fa e poi aiuta ovviamente nel momento della dichiarazione ciao luca potresti vedere cardano grazie va bene va bene andiamo a vedere cardano andiamolo a vedere allora eccolo qui allora in realtà non sta andando male e è da un po che sta andando bene ma di fatto lo avevamo segnalato aveva segnalato il setup long no qua sotto perché io nonostante non sia un amante di cardano dal punto di vista fondamentale lo reputi sopravvalutato non posso negare quando il grafico offre degli spunti interessanti di long e infatti se andate a cercare sul mio canale telegram scrivete cardano e vi salta fuori tutto lo storico andrei troverete che già quando ci trovavamo qua che abbiamo fatto questo il breakout da questo costrutto di bottom io avevo detto c'è una possibilità di long e infatti è andato molto bene per chi l'ha preso allora il il breakout è avvenuto in questo punto sul settimanale abbiamo avuto addirittura due retest del pool di offerta che è diventato subito pool di domanda sotto i 1000 satoshi e poi c'è stato un follow up di domanda pazzesco tanto pazzesco ad aver rotto addirittura il precedente massimo il cluster che non so perché l'ho tenuto ancora ormai è un po storico come cluster comunque il precedente massimo a 1500 sat l'altro massimo ancora a 1736 e al momento addirittura dopo un po di volatilità perché se guardate queste candele settimanali sono abbastanza ampie giusto un pelino però di fatto le chiusure parlano chiaro la scorsa ha chiuso sopra e questa ha retestato i 1700 tac con un flash attacco un flash dump vedete oggi proprio tac e al momento sta cercando di capire un po cosa fare quindi c'è un po di dubbio un po di indecisione andando a vedere sul giornaliero la si capisce meglio perché di fatto sul giornaliero si è andato a creare una sorta di range dove il top locale è a 2100 sat questo e il bottom quindi il range low è sui 1650 quindi questo è l'intervallo laterale al momento abbiamo un bias bullish macro bullish perché per quello che abbiamo detto fino a poco fa insomma struttura fortemente rialzista su time frame settimanale sul daily abbiamo uno scenario di range quindi c'è ci sono tutti i setup possibili immaginabili all'interno dei range attenzione in particolare agli sweep del range low quindi falsi breakdown che sono opportunità di long proprio perché il macro è bullish attenzione ai cioè ai falsi breakdown intesi come chiusura fuori e richiusura dentro o i failure swing intesi come shadow fuori e chiusura dentro sono entrambi setup long se andate a vedere il mio video dove parlo proprio del dei setup di trading all'interno del range ne ho fatto uno dedicato dura una mezz'oretta un po' noiosino me ne rendo conto ma è utile perché in quel video lì vi ho mostrato cinque diversi setup che si trovano all'interno delle fasi laterali e quindi lo trovo utile anche in queste occasioni e altrimenti c'è il classico breakout una volta che il range è superato di fatto si può procedere teoricamente dico teoricamente perché ha un approccio anche questo abbastanza aggressivo è possibile andare a anticipare il fatto che il range ha un'accumulazione poiché siamo in uno scenario bullish macro bullish teoricamente le probabilità durante una lateralità durante appunto un macro bullish sono maggiori di una continuazione rialzista rispetto che invece di una correzione ribassista e quindi se si vuole seguire questo scenario è possibile andare a definire magari una zona di accumulazione all'interno del della zona bassa del range con obiettivo poi ovviamente il trend trend follower al successivo breakout che ci sarà se ci sarà ovviamente bisogna anche avere uno scenario di invalidazione che in questo caso ad esempio potrebbe essere la rottura del range con chiusura di candele qua sotto o addirittura sotto al supporto ancora inferiore quindi uno step più in giù più scende più inizia cioè più continua a chiudere candele sotto i supporti recuperati e più ovviamente lo scenario bullish capite bene che inizia ad incrinarsi questo quindi è cardano e appunto ripeto la lo scenario invece di inversione ovvero che questo diventa un doppio massimo e ricominciamo invece a correggere è inizialmente la perdita di questo range e poi la perdita di quest'altro supporto quello che abbiamo detto poco fa ma non funziona più come stop loss ma come innesco dello scenario stesso dipende sempre da che lato si guardano le cose ritorno su bitcoin e ritorno da voi allora tac eccoci qua dumping live no 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 io voglio un assorbimento in live voglio vedere che la shadow si allunga sempre di più voglio una candela bullish anche oggi mille bitcoin trasferiti da mt gox cold wallet a un wallet sconosciuto non lo so bisogna sempre stare attenti ai falsi positivi e guardando questi segnali qui di whale alert alert e ciao luca domandone se ci fossero esplosioni di bolle sul mercato le stable coin potrebbero risentirne ed è quindi il caso di preoccuparsi dici che sia necessario differenziare anche lì guarda io ti dico la verità le stable coin quelle tradizionali tipo usdc quelle un po insomma regolamentate non dovrebbero avere nessun tipo di ripercussione perché di fatto si appoggiano a dei dollari su un conto bancario le stable coin algoritmiche come ad esempio non lo so ampleforth quelle lì a supply elastica sicuramente sì perché risentono della volatilità data da domande offerta dai teoricamente non dovrebbe risentirne c'è un caso limite in cui ovviamente ethereum va a fare delle discesi importanti quindi va a liquidare molte posizioni su maker dao in quel caso lì c'è la possibilità c'è un po di rischio di vedere un pelo di volatilità all'interno di dai però ripeto definirla a rischio quindi la paura che faccia il depeg effettivo quindi si stacchi dal dollaro è molto molto bassa anche perché guardando lo storico durante gli ultimi crash non c'è mai stato un depeg nemmeno di dai quindi io tenderei comunque a definirla solida io sono pronto per comprare bitcoin a 30k anch'io se ci arriva anch'io lo giuro buonasera luca sei un grande grazie ciao luca cosa ne pensi di nu e possiamo vedere anche nu btc io non so cosa sia questo nu però andiamo a vederlo nu btc oddio coinbase che non non lo conosco non adesso faccio la figuraccia perché scopro che è una cosa una coin assurda in ogni caso che dire non è neanche brutto il grafico perché sta andando a sfidare i suoi massimi locali 1750 sat e soprattutto lo sta facendo con massimi e minimi crescenti finora e pertanto manca quello sprint finale di andare a prendere tutte queste tutti questi spike di liquidità e poi andare a chiudere però qua cioè sopra ai 1750 in tal caso parte la price discovery e via che si va fantastico questo è un po la l'unica cosa che mi viene da pensare oppure adesso non so se questo è già definibile un handle quindi una sorta di cap and handle oppure se questo è tutto il cap e poi andrà a fare l'handle e poi partirà non lo so fatto sta che fino fin tanto che non si verifica quella condizione di breakout teoricamente il la price discovery non c'è i nuovi massimi non ci sono beh interessante dai non conoscevo ma curioso coin curiosa ecco ciao luca volevo farti una domanda ma le cripto che hai in rendita quando ci sono dump come le gestisci complimenti per sabato innanzitutto grazie e la gestione delle cripto che ho in rendita sostanzialmente non non differisce da quella normale cioè il fatto che ce li ho in rendita significa che io le avrei holdate lo stesso ok l'unica cosa che io faccio ed è il motivo anche per cui tendo tengo scusate una parte di bitcoin liquidi nel senso non in cefai non in defai eccetera è essere pronto a eventuali coperture short cosa vuol dire vuol dire che nel caso in cui io vedo un'inversione di struttura quindi attenzione non parlo di questi flash dump movimenti repentini ma vedo che iniziano a formarsi dei massimi decrescenti minimi decrescenti supporti persi cose di questo tipo allora inizio a proteggere la mia posizione con una copertura short apro uno short di un controvalore pari a una percentuale dell'intero mio portafoglio bitcoin allo scopo di ammortizzare l'eventuale depreciamento di bitcoin stesso durante la discesa io di solito parto in maniera molto rapida quindi non appena vedo i primi segni di eventuale inversione vado già ad aprire una piccola posizione di copertura short di solito intorno al 5 per cento se non meno e poi di mano in mano che si perdono altri supporti che facciamo dei lower high che abbiamo dei dei lower low insomma dei segnali di continuazione ribassista allora vado a incrementare un pelo alla volta la mia copertura short in modo da essere esposto dalla parte giusta del mercato ecco nel frattempo le coin che ho in in rendita rimangono lì poi vi ricordo che mensilmente c'è il ribilanciamento quindi sposto le cripto da un comparto all'altro e lì vado a spostare anche quelle che sono a rendita magari altrove o viceversa in base alle fluttuazioni di prezzo è un po un casino però neanche troppo tutto sommato buonasera luca vorrei trasferire dei litecoin da block fire nexo non ho mai capito i vari tipi di indirizzi wallet seguit legacy eccetera e le compatibilità tra di loro potresti spiegarlo allora tu banalmente guarda guarda il com'è scritto l'address per litecoin adesso non mi ricordo se lo standard è uguale però per bitcoin è così nel senso che gli address che iniziano con tre o con uno o uno o tre sono legacy l'altro è il seguit poi c'è il back 32 che è quello più nuovo che inizia con bc1 ok quindi se tu in sostanza vuoi depositare che ne so dei bitcoin su nexo dicevi vai a vedere che address ti da nexo e in base a quello decidi cioè se ti da l'address bc1 puoi anche spostarli con il protocollo back 32 se ti da l'address 1 o 3 invece c'è il modo il metodo legacy e basta quindi oppure il seguit però anche lì ti consiglio di andare a fare una ricerca perché a mente non mi non mi ricordo di certo se tu trasferisci con legacy vai sul sicuro e non c'è pericolo di sbagliare se c'è il wallet l'address che inizia con bc1 è compatibile anche back 32 che dump ma dot e ada non hanno perso praticamente niente su btc come tante altre è un buon segno che ne pensi sicuramente le altcoin che hanno perso meno strada meno spazio rispetto a btc sono quelle un po più resilienti perché sapete bene che durante questi flash dump di solito le altcoin perdono terreno si depreciano di più di bitcoin perché il capitale si prosciuga dalle altcoin va su bitcoin e poi viene venduto in fiat tendenzialmente e quindi c'è un po questo fenomeno se una coin perde poco terreno rispetto a btc mostra resistenza ed è comunque da tenere sotto controllo anche questo fattore non è assolutamente da trascurare perché le coin che reagiscono meglio vuol dire che sono meno in come si può dire sono meno soggette a posizione di brevissimo sono più magari oldate tra virgolette perché non intendo oldate a vita ma comunque detenute in un'ottica più di medio termine cioè il fatto che appunto non dampano insieme a bitcoin vuol dire che ok bitcoin ha dampato ma non è che sono tutti scappati fuori dalla posizione molti sono rimasti in posizione appunto questo è un segno di volerle detenere quantomeno nel medio termine buonasera cripto matti pareri sull'itentri guarda devo ancora studiarmela non la conosco ancora abbastanza bene ciao luca belli carichi per questa situazione rossa per rimpolpare tutto quanto siamo in allerta ovviamente pensi che la moneta di cro possa arrivare ad uno e più oppure tornerà indietro guarda io ti dico la verità vabbè dopo un pump del genere io mi muoverei con abbastanza cautela perché è veramente difficile prevedere come si può muovere prossimamente nel senso ha fatto più 100 per cento in una candela giornaliera non lo so io personalmente io sto fermo io in queste situazioni non mi muovo la tentazione c'è di andare a saltare dentro a fare qualche operazione però io cerco di impormi di starmene buono starmene fermo perché è totalmente imprevedibile c'è molta speculazione io mi sento di dire che in questo caso col burn è stato effettivamente aumentato il valore della coin quindi è un pump dettato non unicamente dalla speculazione ma anche dal fatto che è stato privato una buona parte dell'offerta e questo è importante anche sul lungo termine però fiondarmi dentro dopo un pump del più 100 per cento a cui cioè che segue a sua volta ad un altro pump più o meno uguale dei giorni precedenti io non me la sento poi probabilmente mi perderò un altro guadagno di un altro 30 40 per cento quello che sarà però ripeto non è il mio modo di approcciare fare previsioni di lungo termine non si può fare perché non si può dire se arriverà un dollaro 50 centesimi sono tutte bagianate no le previsioni così se qualcuno vi dice un target di prezzo vi sta dicendo una castroneria perché è imprevedibile però io mi aspetto appunto una fase positiva per cro quindi una fase di uptrend dettata da questo cambio di politica molto repentino è proprio un'inversione a questo mi sento di dirlo ciao luca per la questione privacy cosa ne pensi di utilizzare il coin join di wasabi wallet quando preleviamo bitcoin da binance e poi dopo spostare da wasabi wallet all'hardware wallet beh sì cioè è una cosa possibile per tirare su un muro tra i movimenti di binance cioè tra l'account binance e i movimenti che fai sul network bitcoin ci può assolutamente stare su wasabi è supportato solo il cold card wallet cosa ne pensi guarda ne ho sentito parlare molto bene soprattutto ho sentito dire che è uno dei più sicuri quindi tendo a fidarmi di chi l'ha detto ecco dunque dove siamo finiti eccoci qua vai con la food era ora che dan passe domandone no qui è quello sulle stable coin ciao luca cosa ne pensi della cripto for tube potresti analizzare il grafico for btc allora se non erro è un'altra delle eccola la listata su binance è una di quelle sulla c'è della defai sulla bina smart chain giusto mi pare di ricordare che sia così e che dire anche qua il grafico non è affatto male perché ha fatto una sorta pure lui di cap gigante vediamo il settimanale perché è un pelo irregolare come grafico poi c'è il problema della prima candela che va un po a a scombussolare tutto quanto io ripeto cioè questi non sono grafici sui quali io mi espongo perché hanno uno storico troppo breve però di fatto fin adesso questo sembra tutto un faccia tutto l'aspetto di essere un falso breakout quindi se adesso torniamo a proseguire di nuovo a rialzo recuperando questa punta tanto meglio però attenzione ad eventuali storni non lo so non mi sembra un momento ideale per per entrarci dentro personalmente ci sto alla larga e aspetto ancora un po di storico anche dal punto di vista grafico attenzione perché c'è questa formazione qua che potrebbe essere visto il dump abbastanza marcato di oggi un falso breakout una bull trap in piena regola metti like se vuoi satoshi nakamoto da barbara d'orso esatto che va a dire che bitcoin è un ponzi e l'ha ammesso hanno detto che il fondatore di bitcoin il creatore di bitcoin ha ammesso che bitcoin è un ponzi boh non lo so mi sa che me lo son perso perché non so su quale canale sia apparso satoshi nakamoto a dire una roba del genere sono quelle belle storie no che ormai fanno fanno molto ridere c'è solo da riderci su ciao luca ti seguo da qualche mese su tutti i tuoi canali e mi ha insegnato molto grazie ma grazie a te è un piacere vorrei mettere a rendita dot ma non trovo niente di decente sai aiutarmi ho visto su celsius che dovrebbero aggiungerlo ma ancora non c'è la percentuale su crito.com è solo del 3 per cento bloccandoli per tre mesi grazie allora se non erro dunque fammi controllare ma su binance dovrebbe esserci dunque aspetta che controllo è perché non sono sicuro al cento per cento ma ci dovrebbe essere staking vediamo visualizza altro vediamo se c'è eccolo qua dot c'è il 16 per cento annualizzato con lo staking di durata variabile ecco no scusa se lo blocchi per tre mesi ha esaurito però scusa come non detto non avevo visto che era esaurito completamente quindi c'è da aspettare che si liberi qualcosina anche su kraken fammi vedere perché anche kraken offre i servizi di staking dunque fammi dare un'occhiatina adesso però dovrei accedere features staking vediamo se lo vediamo da qua eccolo qua polka dot on chain yearly rewards più 12 per cento qui non so se è sold out oppure no ma secondo me no perché se non erro a più no di kraken beh dacci un'occhiata comunque ripeto metodi semplici binance appena si libererà non so adesso se c'è anche sui risparmi flessibili ma secondo me anche se ci fosse non sarebbe molto conveniente fammi controllare vediamo in ordine alfabetico sarà io lo spero dot 2,53 esatto non è non è granché quindi al momento la soluzione migliore è se si libera quello vincolato su binance se invece non è libero c'è su kraken al 12 per cento che non ci si sputa sopra bene allora torno da voi ritorno su bitcoin prima allora tac tac allora allora dove siamo eccoci qua ciao luca ho iniziato oggi a seguire il tuo corso sul trading consapevole pensi che lo aggiornerai o posso andare tranquillo che trovo già tutto su questo guarda io ti dico lì ci trovi tutto quello che serve per il mondo del trading ne volevo fare uno sulla defi quindi insomma arriverà però sarà un in più non toglie niente a quello lì quello lì è già bello completo di suo per chi non sapesse di cosa sto parlando è un corso gratuito che ho messo a disposizione sul mio canale youtube niente di niente a pagamento niente fan nel niente non vi chiedo dati insomma è su youtube e basta è per tutti voi ciao luca ha deciso di seguire un tuo video e fare un pack su token sets di defi pules ok per caso è il tuo referral non c'è il referral su token sets mi spiace quindi no fai pure vai pure tranquillo ciao luca difficoltà di impostare una strategia vorrei raggiungere una certa percentuale di bitcoin ad un certo prezzo di carico ok avendo capitale limitato ho cercato di sfruttare l'alt season per poi girare parte dei guadagni in bitcoin attenzione a fare questo finora è andata bene esatto ma la giornata di oggi mi ha fatto capire che non sono preparato ad un dump non ho una exit strategy non so come impostarla correttamente oggi mi è andata bene ma vorrei stare più tranquillo come posso comportarmi grazie mille guarda ottima osservazione bravo ti hai pensato alla exit strategy e bravo che è andata anche bene appunto che oggi non c'è stato un dump importante allora io ti dico la verità la prima cosa da fare nell'approcciare un qualsiasi trade che sia su bitcoin che sia sulle alt di breve è avere seguire dei setup quindi sulle alt se tu dici voglio approfittare delle alt per andare a incrementare la quantità di bitcoin è una cosa assolutamente legittima ma ci deve essere un metodo quindi andare a seguire ad esempio dei setup specifici e dire breakout retest che lo amate tutti lo so quello è un setup e quindi metto lo stop loss in caso di perdita del livello di breakout metto il take profit se è il caso di mettere il take profit se invece c'è un uptrend io lascio correre i profitti finché non vedo un setup short ecco queste potrebbero essere delle osservazioni altrimenti che dire per abbassare il prezzo medio di carico ci cioè si implementano delle strategie di ingresso frazionato nel lungo periodo che può essere frazionato solo nelle fasi rialziste con pausa nelle fasi ribassiste viceversa oppure fregandosene delle fasi rialziste ribassiste l'importante è frazionarlo io penso che se uno non ha particolare esperienza non è male neanche un pack standard alla fine l'avevano simulato con uno script e avete visto che poi sul lungo tempo l'importante è spalmarlo bene cioè se uno ha un capitale che ne so 10.000 20.000 5.000 non dire poco capitale lo faccio in tre mesi perché allora non è più un pack in ogni caso andrebbe spalmato sul lungo periodo quella è la cosa importante perché altrimenti si perde la componente di mediazione del prezzo e in quel caso lì poi uno se ne frega di quando iniziarlo perché iniziarlo oggi domani tra un mese quando è i massimi e i minimi non cambia nulla perché la componente di prezzo non è inclusa e quindi per chi non segue assiduamenti grafici pulito pulito e poco impegno ciao luke bellissimo l'intervento di sabato grazie grazie davvero e spero che vi interesserà anche scaricarvi le slide ciao luke veramente tanti complimenti per il tuo lavoro grazie a no qua c'è la domanda sulla fiscalità ancora l'avevano già risposta ciao finalmente la mia prima live dall'inizio mitico da un tuo fan di youtube ebbene mi fa piacere benvenuto in live spero che ti piacerà e diventerà un appuntamento fisso anche se dampa tutto sono to the moon dato che è la prima live dopo ore di video su youtube grande bravo l'importante è assimilare il cioè da tutti i miei contenuti io spero che riuscirete ad assimilare il razionalizzare cioè il non farsi prendere dall'entusiasmo dalla paura dall'euforia anche in situazioni come oggi ma fare un passo indietro starsene tranquilli aspettare l'esito aspettare qualche segnale più chiaro e basta ebbene così l'importante è non affrettare posizioni non scappare di corsa dalle posizioni che si hanno aperte non non cambiare i piani in corso d'opera solo perché ci sembra che stia succedendo qualcosa di strano ecco ciao luca domanda su coin wrappare se per esempio dieci persone wrappano un bitcoin a testa e lo fanno fruttare in defai o altro se oddio mi sa che non ho capito molto ah ok ho capito così intendi sì nel senso che se dieci persone trasformano bitcoin in wbtc e lo fanno rendere poi diventano 15 ad esempio poi lo unwrappano e diventano 15 bitcoin non è che compaiono dei bitcoin dal nulla e attenzione perché comunque quelle dieci persone cioè quelle persone che avevano dieci bitcoin hanno wrappato hanno fermato loccato dieci bitcoin in cambio di dieci wbtc li ha messi in defai in defai avvengono scambi perché l'interesse che matura non sono bitcoin che compaiono dal nulla wbtc che compaiono dal nulla c'è tutto un meccanismo c'è la liquidità i trader che scambiano e pagano commissioni e quindi il fatto che si trovano con 15 wbtc vuol dire che qualcun altro ne avrà 5 in meno ok inteso come il qualcun altro distribuito nel momento in cui li ricambiano in btc loro otterranno 15 btc e quei 5 in più li avrà wrappati prima qualcun altro in cambio dei wbtc quindi nulla si crea e nulla si distrugge come dice un famoso filosofo domanda rapida da quando ho cominciato a fare investimento nelle cripto vengo tartassato da pubblicità di ai tanti trader che spacciano di venderti il metodo perfetto perché tutti questi cercano di demonizzare l'analisi tecnica guarda purtroppo dico purtroppo perché io cerco di difenderlo il e di dargli un po di di legittimità ma ripeto purtroppo il trading è una delle cose più utilizzate dai fuffaroli per venderti guadagni facili per venderti diventa ricco in fretta con poco capitale in poco tempo e quindi ahimè quando ci si scrive ad esempio io so che se ci si scrive investic.com col proprio numero di telefono stai certo che vieni tartassato da società di trading da cose cos'altre quindi bloccateli tutti non rispondete che dire capita anche a me che spesso mi chiamino e e basta che dire non non ci si può fare niente e a me spiace perché appunto così il trading poi passa per quella cosa che la gente vuol guadagnare in fretta quelle con l'aspetto sbagliato ecco allora grande lu puoi dire a mauro di smetterlo con lo spam dopo l'evento di sabato ma dai impossibile impossibile perché lo spam cosa hai lasciato la mail forse adesso glielo dico lo sgrido lo sgrido ma ste pezze a colore che mette etereo ma avrà mai una fine non lo so non lo so proprio non lo so proprio oggi il gas era 700 800 addirittura mamma mia mamma mia aiuto poveri noi sto aspettando una nuova live tu ed emiliano guarda arriverà perché mi ci trovo molto bene siamo in sintonia e quindi assolutamente altre live insieme e non solo con lui perché il mio la mia idea è un po fare delle live con tutti ma non solo quelli principali che conoscete già con altri che magari conoscete meno proprio per farli emergere e per presentare a tutti più punti di vista perché una battaglia che sto combattendo personalmente è proprio quella di cercare di di dire al mio pubblico il messaggio che per me è importantissimo di non fermarsi a una singola opinione quindi di non ascoltare solo me o solo qualcun altro solo due persone ma di farsi di ascoltare tante più persone possibili lo so che il tempo non è così tanto da poter ascoltare tutti però ascoltando più opinioni magari diverse poi uno si costruisce la propria e la mia battaglia è proprio sul farvi creare una vostra opinione che è la cosa fondamentale per andare avanti per campare nel mondo del trading ecco e nel mondo degli investimenti vado avanti non voglio perdere tempo in chiacchiere ma il laser negli occhi è vero devo farlo sono l'unico rimasto che non ha fatto la foto con laser negli occhi laser eyes fino a 100k ma mi sa che non stanno funzionando granché vedo che stiamo attaccando il supporto adesso quindi soffiamo tutti insieme forza soffiate soffiate anche voi dobbiamo rispedire sopra il prezzo allora allora ciao si può usare il tuo refer su binance anche se sono registrato da qualche mese grazie allora il mio referral quello che dà lo sconto del 20 per cento sulle fee per sempre si può usare soltanto su un nuovo account alla fase di registrazione mi spiace per chi non sa di cosa sto parlando lo trovate in descrizione sconto del 20 per cento sulle fee di binance per sempre che attenzione non è uno sconto sconto a un cashback vuol dire voi pagate le fee e immediatamente ricevete indietro il 20 per cento quindi di fatto è la stessa cosa dunque amici io vado a vedere un po di grafici cosa ne dite giusto adesso che si sta scaldando la situazione andiamo a vedere se è il caso di farsi prendere dal panico quando è il caso di farlo e soprattutto come perché farsi prendere dal panico scherzi a parte non è mai una buona idea questa è la fotografia attuale di bitcoin abbiamo fatto un massimo locale a 58k circa e poi oggi abbiamo il primo sell off era da un po che non avevamo un sell off come si deve perché se ci fate caso tutta quest'ultima leg up è andata avanti senza nessuna interruzione vedete bene che qualche candelina rossa c'è ma zero engulfing bull engulfing bearish intese come candelone che si mangiano il movimento precedente zero lower highs quindi tutti i massimi sono sempre crescenti vedete bene zero lower lows ovviamente e zero anche ahimè lateralità nonché piccoli storni e lo sapete che questi movimenti estendi 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 prima o poi giungono a un termine il che non vuol dire bear market della durata di sei mesi il che vuol dire che è il momento ogni tanto di sgonfiarli un po ovvero lateralizzare per qualche tempo stornare quindi fare una parte di ritracciamento per qualche tempo e poi andare a creare nuovi supporti confermare nuovi livelli di prezzo e poi ripartire con il trend organico al momento dobbiamo tenere d'occhio alcuni livelli di prezzo nell'immediato per capire quali sono le intenzioni perché se noi andiamo a non perdere neanche uno di questi supporti ce ne possiamo fregare la grande del del movimento di oggi cioè è ordinaria amministrazione è vero un impulso così c'è buona probabilità che almeno un supporto venga perso ma non è detto il primo supporto è proprio questo qui a 52.000 questo cluster che avevamo disegnato negli scorsi giorni i cluster sono queste candeline rosse che si intervallano a dei movimenti rialzisti quindi abbiamo un trend rialzista ok è l'ipotesi di partenza abbiamo il trend che è composto ovviamente da come dire onde no e in particolare in questo caso abbiamo un trend composto da un movimento unico praticamente perché non abbiamo dei ritracciamenti quindi non abbiamo onde e ogni tanto si formano delle candeline rosse ecco in quei punti lì dove si formano le candeline rosse è interessante cioè vanno vanno tenuti sotto controllo perché di fatto è dove per un attimo si altera l'equilibrio domanda offerta e quindi di conseguenza si rendono necessari più volumi per spostare il prezzo questo si traduce anche nel grafico del volume profile di fianco se ci fate caso si creano delle zone un po più cicciotte in termini di volume e quelle zone lì diventano più importanti dal punto di vista accumulativo distributivo a seconda dell'andamento che poi avrà il cluster è la concentrazione estrema di tutto questo quindi avere un movimento unico con una candelina che lo ferma e lo fa andare un attimo in pausa questa candelina è proprio il cluster stesso in questa candelina si altera un attimo l'equilibrio domanda offerta per un giorno non ci muoviamo più un giorno che fa parte di un trend che invece è caratterizzato da lunghi movimenti e quindi quel livello di prezzo è un livello di prezzo in cui c'è battaglia tra domanda e offerta e diventa importante e questo è il motivo banalmente per cui lo abbiamo considerato primo livello è questo quindi se la candela giornaliera di oggi chiude sopra a questo livello non c'è ancora nulla da temere o meglio facciamo anche qui qualche precisazione se andiamo a chiudere a ridosso del livello stesso ovviamente capite bene che il livello è a rischio e poi dipende tutto dal follow up del giorno dopo ok poi ovviamente anche se andiamo a chiudere a mezz'aria da queste parti comunque abbiamo avuto un movimento ribassista molto forte che si è avvicinato a questo livello e quindi non è detto che andiamo a fare nuovi massimi è solo detto che non abbiamo ancora perso il livello stesso però si potrebbe andare a sviluppare il movimento con ad esempio una lateralità oppure supponiamo sempre che rimbalzi dei lower highs e un triangolo discendente e quindi poi c'è è solo posticipato l'esito ok l'esito però è dato dall'approccio con i 52k con questa zona qua fin tanto che la zona non viene persa il che vuol dire chiudere delle candele giornaliere qua sotto questo rimane comunque un supporto valido e significa che non abbiamo perso nemmeno un supporto su time frame giornaliero struttura intatta boh basta quindi se la struttura intatta non c'è motivo di impanicarsi non c'è motivo di aprire short di copertura non c'è motivo di scappare fuori dalle posizioni questo è il mio punto di vista al contrario se andiamo a chiudere la candela giornaliera qua sotto allora abbiamo perso il nostro primo supporto e questo già è un segnale e poi c'è da vedere quindi come evolve il mercato in seguito c'è sempre il rischio di falso breakdown nel senso che se il giorno dopo poi c'è una candela verde che rientra capite bene che questo è appunto un falso breakdown e quindi la struttura in realtà viene ripresa subito pertanto anche lì ci sono tutti diversi approcci approccio più aggressivo già la prima perdita del cluster stesso chiusura posizione o setup short oppure approccio più cauto ok chiusura aspettiamo 1 barra 3 giorni di follow up per vedere cosa succede in un mondo ideale ci piacerebbe vedere o un follow up ribassista e poi un retest dello stesso oppure un ritorno lento con andare cioè con la formazione di un lower high che poi va a proseguire il movimento di ritracciamento ok l'unica cosa cioè la differenza tra il falso breakdown e invece lo storno che va a creare il lower high è che il falso breakdown è un cioè abbiamo il movimento che chiude sotto e subito dopo una candela verde grossa che comunque va a riprenderne buona parte ok mentre al contrario il lo storno per fare il lower high tendenzialmente ha la chiusura sotto un po di movimento non troppo importante e poi un recupero lento tendenzialmente lento non è mai un candelone verde dritto perché altrimenti poi si denota domanda e diventa anche più difficile aprire lo short anzi quasi sconveniente e questa un po la differenza tra i due possibili scenari a scendere abbiamo quest'altra area anche che è la zona che va tra i 44 mila perché comunque qua sotto c'è un pool di domanda e i 49 50 mila addirittura perché qua c'è un pool di offerta il range vero e proprio è 44 e 8 48 7 quindi questo e in sostanza questa è un'area di pseudo lateralizzazione non so manco come chiamarla in cui il prezzo di bitcoin si è mosso per qualche giorno durante quest'unica piccola fase di pausa e ha accumulato un po di volumi quindi questo fa le invece di un altro supporto di fatto quindi ipotizzando la costruzione di un'eventuale copertura short si potrebbe avere un primo trigger alla chiusura qua sotto e qui ripeto aggressivo si può già aprire una parte di copertura cauto aspettare lo storno e o lower high o a retest di questo livello andare ad aprire la prima parte di copertura poi attendere il follow up vedere come ci comportiamo andiamo ad approcciare anche questa zona bene ogni lower low eventualmente si può andare a incrementare sensibilmente la copertura short per proteggersi da questo ribasso alla perdita di tutto questo di tutta quest'area se ci dovesse essere allora insomma lì si fa anche lì uno step avanti nella copertura short perché di fatto va a incrementare la pressione ribassista il target il primo target potrebbe essere la zona che va tra i 39 i 41 mila in caso di attenzione ritracciamento è quindi non di flash dump assorbito in caso di chiusura qua lower high oppure a retest eccetera eccetera un primo target sensato dopo ovviamente a questo livello di supporto di cui abbiamo già parlato è 39 40 cioè 39.100 40.600 a scendere questo è il precedente high semplicemente e poi a scendere ci sono tutte le zone interne quindi abbiamo 33.970 e poi famigerati 30.000 insomma sono sempre questi livelli ovviamente più livelli perdiamo cioè più supporti di questi che abbiamo segnato perdiamo e più il downtrend che dire si si fa strada rispetto al semplice ritracciamento perché di fatto se noi andiamo a vedere qua siamo già al 20 per cento sulla questo un meno 10 per cento ve l'ho detto niente di particolare arrivando al range al principale supporto siamo già meno 20 per cento arrivando a 40 k siamo già meno 30 poi qua arriviamo a meno 40 e qua arriviamo addirittura meno 50 quindi è già una correzione abbastanza importante oserei dire quindi occhio non sottovalutateli questi movimenti perché potrebbero erodere addirittura metà del portafoglio se non gestiti correttamente bisogna avere un bel piano ve l'ho detto il tutto inizia dall'approccio con questo primo cluster si propaga poi con l'approccio su questa area e poi ci sono tutti i livelli a scendere una massima aggressività prevede che già alla perdita del primo cluster si inizia a proteggere la posizione e poi sta a ognuno di noi il decidere come addirittura ci sono persone che al primo segno di non hanno voglia di shortare banalmente al primo segno di inversione possibile tirano fuori tutto via flat in dollari il profitto viene incamerato e va bene perché sicuramente molti hanno fatto profitto durante questa leg up quindi il profitto viene salvaguardato non mi espongo short quindi non rischio di andare a perdere se il mercato risale e aspetto una condizione più standard più tranquilla per rientrare questo è un approccio magari un po troppo cauto non lo so va a gusti io ripeto io ve li propongo sempre tutti perché non voglio imporre il mio che come sapete non vuoi se c'è una cosa che non voglio fare imporre il mio modo di vedere le cose però sappiate che ci sono metodi di vario genere al contrario giusto per ampliare ancora di più lo spettro ci sono altri metodi che prevedono che in caso nel caso in cui inizia appunto la fase correttiva tac modalità accumulazione on e quindi entry area entry area entry area tac mediare a ribasso il prezzo medio di carico questo un po l'altro discorso l'altra faccia del discorso vedete ci sono una quantità di approcci veramente ampia cioè ce n'è veramente tanti nessuno è sbagliato l'importante è dargli un perché seguire una strada che sia utile al nostro scopo se il nostro scopo è fare profitto sul movimento allora magari ha più senso uscire e aspettare tempi più stabili nel caso di perdita del del cluster stesso se invece siamo qui per il lunghissimo periodo ha più senso all'accumulazione per abbassare il prezzo medio di carico se abbiamo pianificato una cosa del genere perché se abbiamo un pack standard non ha senso andarlo ad alterare oppure andare a fare la copertura short ovvero non chiudere la nostra posizione ma iniziare a coprirla un po e poi eventualmente la si riscopre si ritolsi chiudono gli short qualora ci avremo dei segni che il ritracciamento è terminato adesso non è ancora iniziato quindi a presto per andare così avanti però vedete che c'è molto ci sono molte possibilità da seguire poi andiamo a dare un'occhiata alla dominance che di fatto non cambia lo scenario che avevamo dipinto nei giorni scorsi in cui bisogna fare attenzione perché guardate sta facendo possibilmente un costrutto di bottom occhi aperti sulle altcoin ecco una cosa che trovo errata in queste situazioni è andare a tuffarsi a pesce su qualche altcoin solo perché oggi ha dampato no è un errore catastrofico questo secondo me perché magari domani dampa ancora dopo domani ancora molte altcoin sono decisamente estese e quindi ripeto andare a buttarci sia pesce nel primo dip ok può essere un'opportunità se domani pompa però è molto di più un rischio perché non è detto che domani pompi insomma molte sono decisamente estese occhi molto aperti ecco perché poi se adesso le immobili si rincrociano se adesso facciamo il costrutto di bottom e così via è un attimo che l'alt season ce la lasciamo alle spalle ed è bella che è terminata ethereum prosegue la sua corsa ribassista e perde 0.0 335 addirittura io fortunatamente ho chiuso già da un po la posizione al momento che dire qual è il prossimo supporto abbiamo 0.0318 questo che corrisponde a dei vecchi dei vecchi insomma top dei vecchi high e poi a seguire c'è 0.0 276 285 e vedete ethereum non benissimo in questo periodo e quindi niente da fare non non è cosa da long non è roba da long poi che cosa abbiamo beh kusama invece sta andando benone ma ormai il setup cioè era è passato era era tempo fa il setup long poi cosa possiamo andare a dare un occhio link che anche lui non è più appetibile perché di fatto ha perso la cioè ha perso il tutte le aree di supporto che erano interessanti e sta facendo un po un range è ancora appoggiato qua sopra però viste le numerosità degli attacchi non mi ispira più granché cioè lo stiamo attaccando un po troppe volte per i miei gusti ripeto le altcoin secondo me non non sono particolarmente interessanti in questo periodo a parte magari rari casi però tendenzialmente in queste fasi incerte di bitcoin le altcoin sono un po da lasciar lì dove sono ecco io mi comporto così mi concentro prima su bitcoin aspetto l'esito una volta che si ha l'esito di bitcoin e si capisce se ritraccia o non ritraccia o lateralizza allora lì si definisce meglio tutto quanto questo il mio punto di vista bene allora vediamo rispondo a un altro po mamma mia quante domande oggi pazzesco allora allora cro 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 spinge però attenzione anche lì, ho detto all'inizio, riguardati la differita. Cosa ne pensi di Reef? Si potrebbe analizzare? Andiamo a vedere il grafico di Reef, Reef BTC, che secondo me... Allora, beh dai, c'è di peggio, però guarda, c'è questa cosa qua che non mi piace neanche un po'. Quando ci sono queste formazioni a punta, io tendo a starne lontano, perché guarda, si vede un po' già l'inversione di struttura, nel senso si ha, guarda dall'inizio, high, low, high, low, high, e qua tutto in uptrend. Poi abbiamo low, high, che è un lower high di fatto, e lower low rispetto al breve, e sul medio invece andiamo a rischiare di creare una sorta di testa e spalle, vedi? In sostanza, quando si ha un higher high e poi un equal low, perché di fatto rispetto allo scorso, se trascuriamo questo, questo è un equal low, non è più tanto bella la struttura. Guarda, ti faccio vedere anche su Ethereum, che ha fatto la stessa cosa. Avevamo qua, che è dove vi ho detto io chiudo la posizione, era questo il motivo, se vi ricordate. Avevamo questo high, un higher high, e poi equal low, tac, e poi breakdown e via che si va. Però già qui, cioè già qui in realtà, dopo il breakdown, perché prima del breakdown avevamo sì l'equal low, poteva non essere bello, però la conferma, la data, il breakdown dall'equal low. In ogni caso, queste formazioni sono, cioè mostrano un esaurimento della domanda e un inizio comunque di forza da parte dell'offerta, quindi vi passa un po' la voglia, ecco, di entrare. Bene, amici, io direi che ci possiamo salutare, perché a 1h05 avevo perso completamente la cognizione del tempo. Oggi è stato un record, siamo arrivati quasi a 900, mi gasate sempre di più. Ragazzi, che dire, voi state sempre sul pezzo, perché noi ci vediamo sempre live, tre volte alla settimana, la prossima volta è mercoledì. Vi ricordo che se volete partecipare, dare una mano al mio lavoro, a questo canale, contribuire, potete farlo gratuitamente abbonandovi al mio canale Twitch tramite Amazon Prime, che per voi è gratuito, e a me arriva una piccola donazione. Insomma, è un modo per dirmi grazie. E io dico grazie a voi che lo fate. Dovete farlo però ogni mese, perché con Prime non c'è il rinnovo automatico. E basta, amici, questo è quanto. Io vi lascio, mi raccomando, non fatevi prendere dal panico, teniamo gli occhi puntati su quel cluster, su quel livello, e poi ci comportiamo di conseguenza. Fortunatamente è lunedì, quindi ci continueremo ad aggiornare anche su Telegram nei prossimi giorni. Io vi dirò un po' quali sono i provvedimenti che prendo, così, insomma, ci confrontiamo, ci scambiamo idee, ne parliamo poi mercoledì in live, c'è sempre da aggiornarsi, è un periodo abbastanza caldo. L'importante è non fare mosse affrettate. Vi prego, state tranquilli, un passo indietro, un bel respiro, e lasciamo che la struttura si completi. Di sicuro Bitcoin non esplode dal giorno alla notte. Vi faccio un caro saluto e alla prossima!